E ho notato che sembrava quasi di essere in un parco di divertimenti. Nei Luna Park devi fare ore di fila per salire sulle giostre. E anche in aereo. Prima si aspetta per salire a bordo, poi si aspetta ancora di più per decollare. Ti leghi con la cintura di sicurezza al tuo posto. Come faresti sulla ruota panoramica? E quando finalmente l'aereo decolla ti senti lo stomaco sotto sopra, proprio come sulle montagne russe. Se l'aereo inizia a fare su e giù, mio padre si mette a oglare come un'aquila. Più o meno come fa quando andiamo nel castello dei fantasmi. Anche lì gli viene il mal di stomaco. Mi pare che l'unica differenza tra fare un viaggio in aereo e passare una giornata a Luna Park è che in aereo ti danno un sacchetto per vomitare. Mentre a Luna Park devi procurartelo da solo. E di corsa!